Seconda amichevole del ritiro portoghese per la Roma all'estadio municipal de Albufeira. Sta per iniziare Roma estrela a Madura. Di cacchiude, si riparte allora con Cristante, verticale in avanti, ottima per Di Bala, palo! Di Bala molto schiacciato, bene per Pellegrini, verticale sul Sharawi, posizione regolare, entra l'area ancora, il Sharawi, palla fuori, Zaleschi trova la percussione centrale, c'è Sharawi a sinistra che lascia spazio, Zaleschi al limite, il tiro, la parata di Brigido. Avanza, palla al piede, punta al limite, si sposta a destra, c'è anche Aloisio, servito invece Ronald il cross, Svilari in uscita bassa, la palla resta lì, ancora Tavares per Ndò, indietro il pallone per Felipe, cross dentro, colpo di testa, palla fuori. Indietro per Lopes, che sbaglia l'appoggio, Di Bala, Di Bala, Di Bala, il tocco sotto! Di Paolo! Roma in vantaggio, Roma 1, estrela a Madura 0. Dentro anche Kristensen, Zaleschi al limite per Di Bala, che la mette giù col petto, finta il tiro, la mette a terra per il Sharawi, dentro ancora per Saguara, per Di Bala, Di Bala, Di Bala! Che gol della Roma! Roma 2, estrela a Madura 0, ancora Paolo, ancora Di Bala! Avanza Di Bala, arriva anche Spinazzola, Di Bala alza lo sguardo, lo serve, lato corto, finta il cross, si accetta a Spinazzola, il tiro a giro di destro, palla alta, poi ancora Llorenti, in avanti per Belotti, in mezzo c'è Pagano, palla dentro dove c'è ancora Llorenti, in area il tiro di Diego! e 3 a 0 per la Roma, con Diego Llorente! Dentro verso Pagano, in area di gore, Pagano l'appoggia per Awar, che non ci arriva, Bovesi! Bovesi, 4 a 0 per la Roma, il gol di Edoardo Bovesi! Avanza Belotti, dentro per Pagano, in area il tiro, tentato, parato da Bruno Brigido! Ed è stata questa l'ultima azione, fischia il signor Gonzalo Neves, finisce qui il match! Grazie!